Salve a tutti ragazzi, sono End1001, oggi ci troviamo su Warface Oggi ho intenzione di provare come modalità, la modalità Brits Comunque per chi volesse Minecraft, per chi è desideroso di vedere un altro episodio Cercherò di registrare per giovedì Quindi ragazzi, non mancate assolutamente E' importante Dopo che abbiamo fatto la nebbia Entriamo in gioco, quello che spero Già è passato un minuto e mezzo No, non PvP Ma non c'è nessuno, incredibile Va bene Cambio di programma Uno può cambiare, no? La modalità che avevo scelto era Blitz Giusto ragazzi, confermatemi Adesso faccio Storm Poi si scopre che sto facendo la stessa modalità No No, lo sto facendo la stessa Vedete? Appunto ho trovato già una stanza di due secondi Ok, siamo arrivati Per scoprire se c'è lag Fare sempre un giro di 360 gradi Ok, già fatto Non c'è lag Ok, già sto morendo A me non piacciono queste bottiglie Guardate cosa penso in mezzo alla battaglia No Per forza dovevo pensare alle bottiglie Oh mannaggia, ero in due Ma questi alleati muoiono un pochino Veloci Non pensate? Ah, io sono sempre così Oltre a una squadra troppo perfetta E riesco Con la mia squadra a vincere in due secondi esatti Oltre a una squadra che muoiono in due secondi Come ho fatto io assieme ai miei compagni Secondo me due secondi fa hanno detto Si muore la squadra ragazzi Moriamo tutti insieme Caspite l'altra posizione Ritirata, ritirata, ritirata Ma cosa vuoi fare contro di me? Nabbo Va bene Basta insultare un fine Finisce Lo stavo dicendo Un fine finisce Che morirò in modo veloce Ecco appunto Sono tutti quanti raggruppati in un punto esatto Oddio Ma quando sono allenati questi? Si mettono a nerdare quando sono nato Proprio Ah, ok Ci sto pensando un pochino io Mi incaricare, mi incaricare Aia E dai Ma nel detto coniglio Si mette a saltare Muori Sudicio Ok È morto un pezzente Ma che paura mi è brutto È passato proprio davanti Non me l'aspettavo Da perché siamo qui? Scende A me Due ore Questo personaggio è lentissimo Ok è morto Per fortuna No No Ok ragazzi Siamo tutti schifosi Ma che caos Lo dino Sparare in aria La situazione ideale Sparare in aria No Non è vero Ok Dopo Allora c'è Tu lo c'è Tizzo Muori Che sta succedendo Volano tutti Sono diventati elicotteri Di quando mai Smettila di sparare Papapapap No Maledizione Dai Sette secondi Cinque secondi Oh Meno male Soltanto due posti Di comando Quindici Diciannove Eh Meno male Ok Ci riusciremo Moriremo sempre Secondo me Manca il primo Eh 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 Già cominciamo male Questo qua Mister Deatomoros È imbora Oddio 82 17 Eh Io ho un paio Di dubbi Nel suo stato Di combattimento Il suo rendimento Come fa Una recluta A vincere Così spesso Darsi che sia Uno bravissimo Un pro Io invece Sono scarsissimo Ma che è successo Maledetto È sempre lui Una recluta Troppo potente Perché tutti qua sopra No Lasciamo stare Non voglio Sarire anch'io Cioè vabbè Non ci uscirò mai Ma proprio Aspettate Adesso mi metto Dietro i miei alleati Spero a lui Ecco Mettiti davanti In prima linea Ecco Perché muoio Sempre io Granata Di sicurezza E niente È servito Ma no Dai Dopo tanta fatica Adesso Esce l'hacker Con un fucile Che spara a caso L'ho detto In Almeno Sette minuti Non abbiamo fatto Niente Mettare al campo No No Lo sapevo Quando esce saltellando Come un coniglio Significa Già Preso Di vista Qualcuno Quel qualcuno Ovviamente Sono io Questo è normale E L'ho ammazzato Ok Passa tu avanti Come al solito Qualcuno Deve andare avanti Ecco Mi sono messo All'angolo Mettiti bene No Questo qua I segnalini Nella mappa Finalmente è morto Dopo almeno 8 minuti Quanti sono? Beh C'erano due Ok L'ho ammazzato Non lo sapevo Si poteva andare qua Vediamo di qua Sembra un posto interessante Finalmente Difendiamo bene Ok Stanno entrando da là No C'è riuscito Maledetto Sempre quello Il primo della squadra nemica Sta facendo tutto lui Ah ci siamo riusciti Finalmente Dopo almeno 10 minuti Ma perché Attacco lo da dietro L'ho ucciso io Stranno Morto Ci sono riuscito Ci sono riuscito La seconda volta Finalmente Sì Questo qua E Vabbè Troppo forte Ecco No Adesso lo ammazzo Stile Kamikaze E' mortale Che cosa ci posso fare C'era una granata Sotto i suoi piedi Ma muori Ah finalmente No Uno di vita Vabbè Ci ho provato Ti servono munizioni Tieni Prendile Si è scappato Guarda come sta Stresciando Dai veloce Saliamo Che è successo Che è successo Sei scemo in una maniera assurda No perché ci riescono Vabbè Era quel tizio Ha fatto già 150 uccisioni Vabbè niente Non ci siamo riusciti Per la base Rimasta intoccata Da almeno Mezz'ora Eeeh Non ci possiamo fare niente Una recluta Troppo potente Com'è possibile 151 uccisioni 79 headshot Come ha fatto Lo sa solo tanto lui Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate Un mi piace Iscrivetevi E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Ciao